Salve a tutti, sono Marco Casare e benvenuti a questo nuovo episodio dedicato all'analisi tecnica e pattern armonici. Oggi volevo parlarvi di un concetto che sembra un po' strano rispetto a quelli di cui parlo abitualmente, e cioè al fatto che noi come trader cerchiamo sempre di trovare nuove opportunità sui mercati, quindi andiamo a scansionare i mercati, andiamo a cercare pattern, fare analisi tecnica, chi fa analisi fondamentale, andarsi a studiare gli economics di aziende o dei report delle materie prime, sempre tutto quanto al fine di trovare opportunità sui mercati per andare poi ad operare sui mercati. Ed è ovviamente un po' come in un lavoro da commerciale procacciarsi le occasioni, quindi ci sta. Però a volte un trader deve anche saper fare l'esatto contrario, ovvero nel momento in cui c'è una situazione di mercato non chiara, nel momento in cui la configurazione del mercato non dà presupposti, idee, proiezioni possibili per un trade, allora un trader deve anche saper star fermo, perché a volte invece farsi prendere la mano e cercare di forzare operazioni e trade che magari non rispecchiano le nostre regole, le nostre strategie, solo al fine di avere la paura di non far trading, quindi di non mettere operazioni a mercato, a volte questo lo si paga a caro prezzo. Quindi importantissimo, oggi e con il video di oggi volevo farvi ragionare su questo aspetto, che è quello appunto di un trader che deve anche saper rimanere a guardare e aspettare l'occasione giusta. E cade proprio questo video che accade nel momento storico più, diciamo così, corretto dal punto di vista del messaggio che vi sto cercando di passare, ovvero dicembre, la pausa natalizia. A Natale i mercati, soprattutto il mercato del Forex, poi sono mercati che si comportano in maniera un po' strana, perché sono mercati in cui c'è molta manipolazione in questi periodi, perché si abbassano i volumi, ci sono meno, diciamo così, meno trader, sia piccoli che grandi, che stanno sul mercato e quindi gli squali hanno più possibilità di manipolare il mercato. Quindi ancora di più, infatti per quanto mi riguarda, in questo momento storico, a dicembre, quando ci avviciniamo alla pausa natalizia io prendo e sospendo tutte quante le mie attività di trading, ma continuo a fare analisi. Quindi che esempio vi porto, pratico, per dimostrarvi quello di cui vi sto parlando? Vi porto qui l'euro yen, guardate, sto sul giornaliero, vedete che l'euro yen si è nell'ultimo anno, diciamo qui, guardate, siamo all'inizio 2015, ha toccato questi massimi sui 150, grande soglia psicologica, guardate, ve la disegno, non a caso stiamo praticamente a 149,98, 150, lo dico che il tasso di cambio è crollato, guardate, in pochi mesi ha avuto un crollo del 13%, e infatti a fine gennaio, non in pochi mesi, scusate, in poche sedute, perché qui stiamo a fine 2014, dicembre 2014, e qua già stiamo a fine gennaio 2015, guardate, questo crollo, il tasso di cambio ha perso, nei confronti di euro yen, ha perso il più del 13%, per poi, vedete, quindi caduta libera, un ritracciamento, di nuovo una caduta libera, rimbalzo, di nuovo pullback, caduta, di nuovo rimbalzo su questa che è diventata quindi una struttura, qui abbiamo un doppio minimo, vedete il doppio minimo che si è creato qua, il prezzo sembrava avesse la forza di crescere, tant'è che cosa ha fatto il prezzo? ha rotto questa struttura di prezzi, fatemelo fare blu, questa struttura di prezzi qua, vedete che è riuscito questo doppio minimo quindi a far rimbalzare su questa struttura, l'impulso l'ha sentita, usata come resistenza, dopodiché l'ha rotta, quindi ha creato un nuovo massimo, che cosa è successo però dopo? è successo che il prezzo ha ricominciato a scendere, e si è incastrato, guardate che bello, in questo canale discendente, lo vedete? questo canale qua, su cui i prezzi hanno cominciato a rimbalzare, usando queste linee diagonali come supporti e come resistenze, scendere, e nel frattempo che cosa si è formato? si era formato questo triangolo discendente, guardate qui questa base, che vedete in passato era stata usata come supporto, e anche qui in altre due occasioni come supporto e anche in questa terza occasione, e quindi il triangolo discendente che è stato rotto in questo momento, vi faccio vedere la candela di rottura, eccola qui la bella candela di rottura del triangolo discendente, il prezzo è sceso, è risalito un pochino, ha fatto quindi un pullback, prima di continuare poi la sua discesa, guardate qua che bella candela ribassista, vedete il prezzo di nuovo è sceso, e adesso che cosa sta facendo Euro Yen? beh adesso sicuramente è in una fase, veniamo ai giorni nostri, è una fase un po' di lateralità, sembrerebbe abbia creato questo impulso rialzista, perché lo posso dire? lo posso dire perché questo impulso ha rotto questi massimi precedenti, ha rotto quest'altro massimo qui, qui, quindi ha creato dei nuovi massimi e ha rotto anche questo, proprio in questi giorni ha rotto, quindi ha rotto il primo massimo a sinistra, il secondo massimo a sinistra, il terzo massimo a sinistra, adesso dove si trova questo prezzo? si trova su una struttura importante, che è questa struttura qua, vedete che è stata usata in passato più volte, vedete qui come l'ha sentita, e effettivamente anche adesso sembrerebbe averla sentita, però vedete che cosa è successo in questa fase di lateralizzazione, guardate questi sono tutti i pattern armonici che piano piano nella newsletter di analisi tecnica, anche in questi video ho identificato insieme a voi, quindi grossa fase di lateralità in cui si sono formati questi pattern di analisi tecnica, per poi, fatemi scendere sul 4 ore, per poi l'inizio di questo impulso rialzista, vedete qua che bel, come si è mosso bene dal punto di vista armonico, pullback, trend rialzista, pullback, trend rialzista, pullback, vedete che ogni volta i pullback dove è che andavano, guardate ve lo faccio vedere qua, vedete quante sono importanti le strutture, vedete che i pullback dove andavano ad insistere, sul prezzo precedente, sulla struttura di prezzo precedente, impulso rialzista, rottura dei massimi, pullback sul prezzo precedente, impulso, pullback, e così via, fino a proprio ai giorni nostri, quindi siamo qui, siamo a dicembre, vedete ancora di nuovo fase laterale, vedete come il mercato sta sentendo questa struttura che abbiamo tracciato prima, l'ha usata qui come resistenza, ci ha rimbalzato sopra, ora, sicuramente fatemi andare a vedere un po' che cosa si sta formando qui, andiamo un po' a vedere, ed effettivamente, guardate, proprio in quest'ultima fase, fatemi zoomare, vedete, diciamo, momento sicuramente laterale del mercato, fatemi tracciare un po' di livelli di Fibonacci per vedere, ok, qui, mi sembra che ci siamo, e vado quindi a disegniarmi il primo triangolo, sto disegnando un pattern armonico, e quindi da qui a qui, ok, e dovrebbe essersi completato, cioè si è sicuramente completato, da qui a qui, sul livello 127, si tratta di un Gartley, e ve lo vado a disegnare, 127, ecco, si è completato con questa candela, e vedete che adesso, questo completamento, probabilmente, sì, questo pattern è andato in perdita, avrebbe preso lo stop loss, almeno per le mie, per le mie regole, però adesso il prezzo comunque, sta fermo, e soprattutto, vi ricordate la linea, intorno, vicino ai 124, sogli anche psicologiche, che il prezzo adesso, fondamentalmente, qua ci sta, ci dovrà dire, che cosa avrà intenzione di fare, cioè se continuare questo, trend rialzista, ed interrompere il trend ribassista, di lunghissimo termine, che si era creato su Euro Yen, piuttosto che, invece, rimanere, sentire questa struttura, sui massimi, e tornare giù, per andare, a toccare qualche, struttura di prezzo precedente, bene, questo è il classico contesto, in cui, ci troviamo in una situazione di mercato, in uno scenario di mercato, in cui c'è grossa indecisione, ci sono alcuni segnali, che ci dicono, che potrebbe essere terminato, il trend ribassista, però ci troviamo comunque, in una fase laterale, il prezzo è in prossimità, di una struttura importante, di prezzi, che potrebbe essere usata, come resistenza, siamo a dicembre, vicino a Natale, e allora, vi dico, non è facile, una delle cose, che un trader deve imparare, ma vi assicuro, che ne beneficeranno, le vostre performance, a fine anno, bisogna anche stare, con le braccia concerte, a guardare quello che succede, ed entrare solo, nel momento in cui si verifica, veramente qualcosa di, di importante, un segnale importante, in un scenario, molto più chiaro, di quello attuale, almeno su Euro, Ien, bene, per oggi è tutto, ci vediamo, al prossimo appuntamento, buon trading, ciao!